vado dritto al punto il ruolo della chimica nella produzione ceramica ecco le due parole chiave chimica e ceramica parole che possono in qualche modo restituire il senso di questo podcast consapevoli di quanto possano risultare complessi i temi associati al mondo della chimica in particolar modo se applicata ai processi produttivi ceramici desideriamo condividere le nostre conoscenze con chi per passione o professione voglia orientarsi e formarsi proveremo quindi a costruire insieme attraverso un linguaggio semplice e diretto uno spazio didattico con focus su prodotti applicazioni e process inizieremo un viaggio che si snoderà lungo le linee produttive ceramiche e ad ogni tappa prenderemo in esame un tema ad ogni tema una criticità e ad ogni criticità quando possibile una soluzione aggiungo anche che il nome del progetto apparentemente invisibili nasce da una constatazione molto semplice e per certi versi ironica che la seguente i prodotti chimici utilizzati in ceramica sono in larga parte miscele più o meno trasparenti e più o meno gelatinose aventi tutte una caratteristica molto peculiare quella di bruciare ed evaporare all'interno dei forni ceramici senza lasciare una traccia apparente tuttavia a rispetto della loro apparente invisibilità ricoprono un ruolo determinante non solo per il corretto svolgimento dei processi ma anche per il conseguimento di materiali ceramici dalle caratteristiche alto performanti sia sotto il profilo tecnico che estetico io sono davide trentini e questo è apparentemente invisibili la chimica in ceramica